la gtf non mi preoccupa per niente è un miracolo che l'academia sia ancora in piedi ho sentito qualcosa anche dovevamo ucciderli quando poteva stanno arrivando altri coglioni mettiamo in lega quelli sciacalli ammazziamo nel piano nel piano mettiamo in fuga quelli sciacalli ragazzi non hanno strategia attenzione rilevati altri stili in arrivo lavoreranno tutti quanti mettiamo in fuga quelli sciacalli spostatevi sul piano non fate scappare nessuno cazzo tirani fuori guardiamo visite forza addosso mettiamo in fuga quelli sciacalli attenzione altri ostili in arrivo mettiamo in fuga quelli sciacalli cazzo ma i denti devono morire cazzo ve ne petti mettiamo in fuga quelli sciacalli giù la testa attenzione forza forza non hanno strategia possiamo batterli amicini vediamo spostatevi sul fianco spostatevi sul fianco come hai fatto? giù la testa sparate dai ripari attenzione rilevati ostili nelle vicinanze prepareranno battaglione pieno di psicopatici spostatevi sul fianco mettiamo in fuga quelli sciacalli facciamola finita ammazziamoli c'è posto per voi qui ultima mira guardategli Mettiamo i balli a fuoco di taccato. Attenzione, rilevati e ostile. 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 Attenzione, rilevati e ostile.